Il sistema di welfare europeo non risponde a una logica univoca. I servizi assicurati ai cittadini differiscono tra un paese e l'altro. Tuttavia la crisi economica globale ne ha indebolito ovunque capacità di intervento e strutture. Così tutti mostrano la corda quando la situazione corrente, la normalità, viene modificata da eventi più o meno eccezionali che ne mettono in luce i diversi livelli di efficienza. Il freddo estremo che ha colpito tra gennaio e febbraio tutta l'Europa è uno di questi eventi rivelatori. Centinaia di morti assiderati, soprattutto tra i senza casa, sono il prezzo che le società europee nel loro complesso hanno deciso di pagare. Centinaia di morti dovuti direttamente e indirettamente al taglio delle misure assistenziali alla riduzione dei servizi pubblici messi in atto da almeno vent'anni a questa parte. In inverno tutti noi, umani e non umani, dipendiamo dalla nostra capacità di ottenere calore. Le case, le auto, gli spazi pubblici, tutti succhiano energia dalle forniture e dalle riserve disponibili. E proprio l'energia, sempre più costosa, è divenuta con l'acuirsi della crisi un'unità di misura della stratificazione censuaria delle nostre società. Di freddo in Europa muoiono per il momento soltanto i poveri, ma la linea sotto la quale si rischia di non poter riscaldare gli ambienti domestici, con le conseguenti minacce alla salute di chi li abita, sta risalendo rapidamente il corpo sociale. Un numero sempre più consistente di persone rimane escluso dalla possibilità di un approvvigionamento sufficiente. Il fenomeno è stato recentemente messo in luce da una campagna di Save the Children, la celebre organizzazione impegnata nella tutela dei diritti dell'infanzia deprivata. Di No Child in the Cold, nessun bambino al freddo, l'esplicito nome dato all'iniziativa, ha dato notizia il 4 gennaio scorso il quotidiano britannico The Guardian, le famiglie più povere di Tolava lasciate al freddo dai fornitori di energia. Nel Regno Unito, si legge nel documento, sono 800.000 le famiglie povere che, secondo i parametri stabiliti dalla legge, dovrebbero ricevere sussidi per riscaldare le proprie case. Però, vista la riluttanza delle compagnie fornitrici a garantire il previsto sussidio diretto di 120 sternine annue e considerata la scarsità dei fondi pubblici destinati allo scopo, solo 25.000 famiglie potranno giovarsi dell'aiuto pubblico. Il problema, però, non è né nuovo né limitato alla sola Inghilterra. Altre ricerche ed altri studi hanno messo pienamente in luce negli ultimi anni il rapporto fra povertà e malattie, asma e patologie polmonari su tutte, derivanti dalla la crescita delle quote di popolazione con scarsa capacità di procacciarsi calore d'inverno.